È l'eterna lotta irrisolta in molti casi tra il diritto di chi vive in un centro storico ad avere serate serene, magari di riposo se la giornata è stata complessa, e dall'altro lato l'altrettanto diritto di chi opera nel centro, avendo un'attività economica, di fare business, incentivando con eventi più o meno ingombranti l'afflusso di persone, specie in ore serali. A Foligno stanno cercando di risolvere quello che è diventato negli anni un divario insanabile con il progetto Movida, avviato la scorsa estate, che ha conosciuto in questi giorni un momento di accelerazione con l'incontro tra il Comune, rappresentato dagli assessori Maura Franquil e Giovanni Patriarchi, la consulente per il Sindaco per la promozione del benessere e della qualità della vita, Lucia Cocco, le unità educative della cooperativa La Locomotiva, la comandante dei vigili urbani, Piero Ottaviani, la presidente dell'associazione Vivere il Centro Storico di Foligno, Maria Teresa Cancellieri e Alfonso Raus, esperto di progettazione partecipata. Progetto Movida è un patto di convivenza urbana che mette intorno ad un tavolo tutti i soggetti aventi interessi nel centro storico per trovare una mediazione tra esigenze diverse. L'obiettivo è di garantire il diritto al riposo dei residenti, ha osservato l'assessore Franquillo, e il diritto al divertimento. Sarà Alfonso Raus, in qualità di esperto di progettazione partecipata, a condurre i lavori che si articoleranno da qui a sei mesi. Nella prima fase si effettueranno dei focus group con ogni singola categoria, dai residenti ai commercianti, dalle associazioni agli organizzatori di eventi, fino alle forze dell'ordine, per capire le esigenze di ognuno. È infatti ritenuto essenziale poter portare all'interno del processo tutti i diversi punti di vista. In un secondo momento si darà avvio al tavolo di negoziazione, aperto a tutti i soggetti in una logica di inclusività. Chi ha partecipato all'incontro ha dato la propria disponibilità, accettando anche l'impegno a cessare o sospendere eventuali attuazioni unilaterali nei confronti di uno o più parti per tutto il periodo del percorso. Il tutto nell'ottica di fare del centro storico di Foligno una risorsa per tutti, magari anche un modello da esportare.